ecco che adesso funzionano i progetti di avere più bacchette così anziché volare subito e fare 20 metri sui digli cominciano a fare dei piccoli voletti tanto qua i nidi sono due questo di qua dove è venuto non l'hanno mai utilizzato lo controllavano in questi anni ma è un po' più basso un po' più e di fatto non sono mai venuti ecco così avevo pensato bene ci hanno un trampolino anche i giovani per fare un po' di esercizio fisico prima di fare il primo volo di 10 15 metri ciao ciao a un metro e mezzo stanno tranquilli tanto ormai ne conoscono ciao ciao